1, 2, 3, via! Con l'accensione del grande albero di fronte al pontile e dell'illuminazione delle principali strade cittadine, il Comune di Forte dei Marmi ha dato il via al periodo natalizio e delle manifestazioni del calendario di eventi Natale al Forte. Una tradizione che si rinnova anche quest'anno, quella della donazione dell'abete da parte del Comune di Abetone Cutigliano, il cui legame con Forte dei Marmi va oltre alle festività natalizie. L'illuminazione di Piazza Navari è stata invece curata dall'Unione Proprietari-Bagni. Io sono felicissimo perché vedo un paese unito, un paese che ha voglia di fare, di lavorare, che nonostante le polemiche naturali di noi che abitiamo sulla sabbia, è però un paese che poi alla fine se la gode e viviamo in un posto baciato dal sole. È una vicinanza tra la montagna e il mare che è simbolica ma è anche concreta, con la collaborazione grazie a dei ragazzi che vengono a sciare da noi. E quest'anno contiamo oltre all'albero di portare giù qualche cos'altro, stiamo cercando di organizzare qualcosa. Protagonisti principali degli eventi saranno i più piccoli, per i quali è stato realizzato il Regno di Babbo Natale all'interno del Fortino, dove i bimbi sono accolti da personaggi fiabeschi, dolci animali del Polo Nord e da Santa Claus in persona e potranno scrivere e imbucare le letterine dei loro desideri. All'interno del Regno di Babbo Natale i bambini potranno inoltre partecipare a tanti laboratori dedicati alla fascia d'età 4-11 anni. I prossimi appuntamenti particolarmente attesi prevedono sabato 27 l'apertura dei tradizionali mercatini di Natale in Piazza Garibaldi e della pista di pattinaggio sul ghiaccio presso la pinetina Fleming.